Altro che Italo Disco, qua c'è Italo Bass e siamo arrivati tutti quanti qui, sani e salvi col mare increspato in quest'estate di San Martino Gaia vieni qua, proprio qui da Santa Maria Goretti, con i ragazzi che riceveranno la prima comunione perché lei, Marietta, sa aiutarli e noi abbiamo bisogno di metterci in moto, finalmente ci ha dato una tregua la pioggia, purtroppo forse domani non potremo andare a l'enola da Gabriele Mattei, però siamo qui, pronti Laura è pronta? Sì, siamo tutti quanti pronti per incontrare la nostra Marietta e riscoprire la gioia di avere una parola dentro grande, potente che illumina anche il buio ancora una volta abbiamo ripercorso la storia di Santa Maria Goretti ogni ragazzo sceglie un quadro che gli resta nel cuore o quello dell'uccisione o quello del perdono la perdono e lo voglio con me è un'altra storia di un femminicidio che però ha trovato una santa e quando trovi una santa, anche se la uccidi lei vive per sempre e soprattutto permette a te di rinascere a vita nuova Marietta è un seme che diventa una pianta grande e ancora oggi da ristoro e insegna ai nostri ragazzi come la pace viene solo dal perdono e dalla vita offerta per amore che ci aiuti a riportare pace dalle nostre famiglie e sulla nostra terra grazie Marietta tu che facendo bene la prima comunione hai visto Gesù aiutaci come te a portare pace sui luoghi di terrore e ringraziamo Borgo Montello che ci ha ospitato e permesso di divertirci anche oggi buomeriggio e ancora da qui Radio Italy Pass una voce amica per le tue strade l'applauso a Petroparte sentiamo gli applausi ed ecco qui per Lorenzo e Gabriel con la coppia numero 10 vi ricordo che la potete votare chiamando lo 0771 1-8-3-3-9-3-6 mi raccomando fate il vostro voto il nostro applausometro ha dato il voto il voto di 7 7 punti parte l'applausometro è l'applausometro così ha calcolato ma ricordo che la grande differenza la fate voi da casa chiamate a 0771-1-8-3-3-9-3-6 potete votare le coppie da 1 a 10 abbiamo ancora un undicesimo concorrente qui per noi da su Italo Radio Italo Basso una voce amica per le tue strade voi nelle vostre case noi a fianco a voi lungo le strade sul nostro alto e l'o- 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 Autore dei sorrisi